Le indagini condotte dai carabinieri di Catania e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia hanno consentito di ricostruire gli organigrammi dei gruppi mafiosi della famiglia Santa Paola Ercolano stanziati sul territorio della provincia etnea, in particolare nei comuni di Belpasso e di Paternò. Sono state individuate anche le attività illecite poste in essere dai sodali non soltanto un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana e cocaina, ma anche estorsioni, riciclaggio, ricettazione e una situazione di rilevante condizionamento mafioso del tessuto economico locale. Tra gli elementi di vertice dell'associazione è stato identificato anche un soggetto il quale, benché condannato all'ergastolo per duplice omicidio, mafia e traffico di droga e detenuto presso il carcere di Rossano in Calabria, approfittava delle giornate di permesso premio per ritornare nel suo paese d'origine, Paternò, dove nel corso di veri e propri summit mafiosi continuava ad impartire ordine e direttive per la gestione degli affari del clan. Le indagini dei carabinieri di Catania hanno fatto emergere una situazione di rilevante condizionamento mafioso del tessuto economico locale, come dimostra peraltro l'individuazione di diversi imprenditori che consapevolmente favorivano le illecite attività del clan. Tra gli altri è stato individuato il titolare di una ditta di commercio di prodotti ortofrutticoli il quale, versando una percentuale degli utili di impresa ai vertici mafiosi e consentendo agli stessi di concludere occultamente affari, otteneva da loro in cambio protezione per vincere la concorrenza e per gestire eventuali problemi con i creditori. Tra gli imprenditori che favorivano l'organizzazione mafiosa, anche il proprietario di importanti gioiellerie, il quale consentiva allo stesso capo clan di operare compravendite incontanti di diamanti, orologi, gioielli, lingotti d'oro senza alcuna rendicontazione fiscale, consentendo in questo modo di occultare l'illecita provenienza delle somme di denaro. È stato documentato anche un ulteriore canale di finanziamento del clan, l'indebita percezione dell'indenità di disoccupazione agricola mediante truffe ai danni dell'Inps. Grazie a una rete di ditte compiacenti, consulenti del lavoro disponibili e soggetti che si prestavano a figurare falsamente quali braccianti agricoli, l'organizzazione predisponeva tutta la documentazione necessaria ed inoltrava all'Inps le domande per l'indenità. I falsi braccianti agricoli, una volta percepito le monumento, dovevano versarne poi una quota alle casse del gruppo mafioso, con un doppio effetto negativo e distorsivo, poiché da un lato il denaro pubblico finiva per arricchire i sodali e per finanziare le altre attività illecite. Dall'altro ne accresceva anche il consenso sociale sul territorio, dato che i soggetti disponibili a figurare quali falsi braccianti agricoli potevano trattenere una parte delle somme indebitamente ricevute senza aver mai svolto alcuna attività lavorativa.